Quando ci sarà l'appuntamento con lo speciale Oroscopo 2018 di Paolo Fox in tv? Ci sarà l'appuntamento speciale su Rai 2 con Oroscopo 2018 di Paolo Fox? E' questa la domanda, che a poche ore dall'inizio del nuovo anno si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori dell'astrologo, che in questi anni ha tenuto banco in televisione con i consueti speciali dove abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima le previsioni segno per segno per il nuovo anno, quando andrà in onda lo speciale Oroscopo 2018 su Rai 2? Speciale Oroscopo 2018 di Paolo Fox in tv, quando va in onda su Rai 2, ecco la verità Le anticipazioni ufficiali, che arrivano dal palinsesto di Rai 2 rivelano che anche quest'anno non è previsto nessun appuntamento speciale in prima serata con l'oroscopo di Paolo Fox, che non risulta in programmazione così come ormai accade da un po' di anni La Rai, infatti, ha deciso di cancellare l'appuntamento in prime time con l'oroscopo per il nuovo anno, scatenando l'ira dei tantissimi affezionati che ancora oggi si chiedono il perché di tale scelta scellerata, anche dal punto di vista degli ascolti, da parte di Mamma Rai, visto che poi l'oroscopo continua ad essere presente nei vari programmi del Dai Team e della TV di Stato Per quest'anno possiamo svelarvi che non sono previsti degli appuntamenti speciali di fine anno con le previsioni astrologiche del 2018 di Paolo Fox I tantissimi fan dell'astrologo avevano sperato di poter ascoltare le previsioni segno per segno nel corso della puntata del 31 dicembre di mezzogiorno in famiglia, la trasmissione del weekend di Rai 2 dove ogni settimana Paolo Fox fila la classifica settimanale dei segni più fortunati, ottenendo picchi di oltre 2 milioni di spettatori e il 16% di share durante la messa in onda Il video delle previsioni segno per segno di Paolo Fox per il 2018 Purtroppo, però, possiamo svelarvi che il 31 dicembre la trasmissione Mezzogiorno in famiglia non andrà in onda, al suo posto ci saranno dei film e questo vuol dire che salterà anche l'appuntamento con lo speciale oroscopo su Rai 2 Tuttavia se siete a caccia delle previsioni per il nuovo anno dell'astrologo più amato della tv italiana, vi segnaliamo che c'è stata un'ospitata di qualche giorno fa in televisione alla vita in diretta, per chi si fosse perso quel momento, può recuperare il video integrale cliccando qui Dove potrete ascoltare le parole di Fox per tutti i segni dello zodiaco oppure consultare l'appi ufficiale dell'astrologo Dove potrete ascoltare l'appi ufficiale dell'astrologo